Gentili telespettatori di Antenna Sud, amiche ed amici di Antenna Pomeriggio, ben ritrovati. Siamo pronti per cominciare questo approfondimento di mercoledì, 21 marzo, primo giorno di primavera, con un'attenzione molto particolare agli sviluppi relativi alla riforma del lavoro, alle parole del Premier Mario Monti e soprattutto alla reazione della CGL che contro la riforma sta mobilitando il mercato del lavoro, proclamando otto ore di sciopero generale in un'unica giornata con manifestazioni territoriali e a cui si aggiungeranno poi altre otto ore di sciopero per assemblee nei luoghi di lavoro. Questa è la risposta alla riforma, soprattutto proposta dal Governo, a prescindere da quello che poi vorranno dare come contributo partiti e parti sociali. Evidentemente, come detto qualche ora fa da Monti, la decisione è quella di andare comunque avanti, anche se pochi minuti fa è stata diffusa la notizia che il Governo incontrerà le parti sociali domani alle 16 per un ulteriore punto. Anche oggi vi informeremo di una serie di notizie che riguardano il nostro ambito territoriale, a partire da quelle legate alla cronaca giudiziaria che vede ancora al centro la questione degli appalti che interessano la famiglia De Gennaro e poi parleremo anche di una notizia arrivata questa mattina in redazione, tanta paura gravina nel barese, per fortuna nessun ferito dovuto al crollo del muro di una palazzina. Ma la notizia terribile che arriva nel giorno in cui si ricordano le vittime innocenti di mafia, proprio oggi, è quella di stamane, che è relativa al fatto che qualcuno ha sparato sei colpi di arma da fuoco contro Alberto Musi, consigliere comunale dell'Udc a Torino, ex candidato sindaco per il terzo polo. Come vi dicevo, ferito questa mattina, era sotto casa. Dalla ricostruzione della polizia contro Musi, che esercita la professione di avvocato, sono stati sparati, qualcuno dice cinque, qualcuno sei, però insomma diversi colpi di pistola da una persona che indossava un casco integrale. Almeno due colpi lo hanno colpito, uno al torace ed uno tra la spalla ed il braccio. E prima di svenire avrebbe detto alla moglie che lo aveva soccorso, mi hanno seguito. Dalle ultime notizie, per la verità, da metà mattinata sappiamo che Musi è fuori pericolo di vita. Questa è una buona notizia, però le sue condizioni continuano a rimanere gravi. Musi sognava una Torino riformista, lo abbiamo appreso questa mattina. era pro-TAV, era per la riforma del lavoro e dell'articolo 18, faceva politica nelle scuole medie, insomma sperava di entrare in giunta con Fassino, quindi la sua è una linea di dialogo, una linea di dialogo politico e nei numerosi messaggi di solidarietà che gli sono stati inviati e quindi questa mattina viene descritto come uomo del dialogo appunto. Qualsiasi cosa però non giustifica un atto così grave come quello che lo ha colpito. Ogni violenza è da condannare, specialmente in momenti come questo di grande crisi, di grande discussione, di grandi tensioni e di grandi malumori. Ogni abuso sulla vita altrui non può e non deve essere giustificato da ognuno di noi. Ed un giorno come questo, ma anche in tutti i giorni della nostra vita, in cui non dobbiamo dimenticare le tante vite spezzate ingiustamente, l'attentato di Torino contro Musi non rappresenta certo un segnale, alcun tipo di segnale, neppure politico, neppure popolare, neppure di protesta. Rappresenta solo un grande atto di vergogna e tutti ci dovremmo ribellare. Diamo la linea al CNR per le altre notizie. Ancora ben ritrovati, siamo pronti per partire con questa nostra discussione di mercoledì 21 marzo. Come vi dicevo, come al solito si apre con un invito a voi che siete a casa, a partecipare ai nostri approfondimenti, anche a commentare le notizie del nostro notiziario attraverso il telefono, il numero verde gratuito che leggete in sovrimpressione 800 098 729 o scrivendo sulla pagina Facebook di Antenna Sud. Questo pomeriggio è con noi Eli Parlavecchia e commenterà con voi le notizie che tratteremo. Buon pomeriggio a tutti. Allora, cara Eli, sicuramente i nostri amici potranno, se vorranno, commentare quanto è avvenuto questa mattina a Torino, che insomma rappresenta per noi un grave atto di vergogna e di violenza, proprio come dicevamo prima. Però mi piacerebbe anche sentire le loro reazioni riguardo le parole del Premier Monti sulla riforma annunciata ieri in una conferenza stampa in cui, insomma, si è detto chiaramente che l'accordo non c'è per tutte le parti, tra tutte le parti, ma evidentemente si andrà avanti. Lo snodo di questa riforma, come tutti sapete, sono i contratti e i licenziamenti, in particolare quello che interessa di più è la modifica dell'articolo 18, che cosa ne pensate? E poi un po' per stemperare i toni, perché sapete che questo è importante sempre per noi, insomma cercare di darvi in ogni caso un messaggio positivo, una buona notizia. Vi ricordiamo che oggi è primavera, insomma per noi e per tutti è il primo giorno di primavera, cambiamento climatico repentino. Oggi è stato chi postava su Facebook piuttosto che su Twitter una foto meravigliosa di una Bari illuminata e riscaldata dal sole, ma anche dal Salento abbiamo visto foto bellissime. Come state vivendo questo giorno di primavera? E tra l'altro poi questo cambiamento spessissimo innesca sì la gioia del sole, del calore, dello sbocciare dei fiori, però anche tante allergie, insomma tutti siamo un po' raffreddati, allergici. Voi come state? Come state vivendo questo cambiamento? Insomma a te è lì il compito di seguire i nostri amici a casa. Prima di andare in pubblicità però volevo ricordarvi un'altra cosa. Oggi è la giornata mondiale della poesia e in questo giorno è venuto a mancare un grande poeta, uno sceneggiatore che noi ricordiamo con molto affetto, Tonino Guerra. Quindi un pensiero a lui che è stato un collaboratore per eccellenza di grandi registi come Fellini, Antonioni, come i fratelli Taviani, un uomo che abbiamo anche avuto la fortuna di conoscere qualche anno fa qui a Bari e che ricorderemo moltissimo e oggi è venuto a mancare. Oggi tra l'altro nasceva una grande poetessa, Alda Merini. E allora prima di andare in pubblicità impropriamente vi leggo, ma veramente due parole tratte da una sua meravigliosa poesia in cui in qualche modo lei raccontava di questa fortuna. Sono nata il 21 a primavera ma non sapevo che nascere folle, aprire zolle potesse scatenare tempesta. Che meravigliosa tempesta ha scatenato Alda Merini. Ci ritroviamo fra tre minuti per altre notizie. Ancora ben ritrovati. Parliamo in questa prima parte di Antenna Pomeriggio di un argomento di grande interesse, soprattutto per i pendolari, per i viaggiatori che quotidianamente sanno bene che l'argomento che è giusto trattare in molti casi, oltre che i ritardi perpetrati dalle linee terroviarie, attiene anche a questioni legate alla sicurezza. Oggi abbiamo invitato nel nostro studio Daniele Milella, che ringrazio per essere qui, segretario provinciale Bari La Destra, perché questa mattina ha partecipato ad un incontro importante in prefettura a Bari per sottolineare una situazione che adesso vorrei che proprio lei ci raccontasse e che in qualche modo anche attraverso la cronaca tutto il grande pubblico ha conosciuto negli ultimi tempi. Io innanzitutto voglio ringraziarla per il cortese invito, voglio salutare gli ospiti a casa. Se mi permette, dare la solidarietà al povero leader del terzo polo di Torino, il quale è stato colpito da quel brutto attentato. È sempre una cosa terribile quando si colpisce chi è impegnato, al di là poi del sentire politico, chi è impegnato per cercare di migliorare la nostra società. E quindi al di là delle barriere ideali, io credo, essendo di essere vicino a quella persona e di condannare fermamente qualsiasi atto così vile di violenza nei confronti di chi fa politica. Dopodiché veniamo al tema. Io stamattina ho guidato una piccola delegazione del mio partito che si è recata in prefettura e ha incontrato il vice prefetto incaricato della pubblica sicurezza. Sì. Perché gli ho parlato di un problema secondo noi molto serio. Lei sa che noi siamo abbastanza sensibili al tema dell'ordine e al tema della sicurezza. E deve sapere che proprio in virtù di questa nostra sensibilità molti nostri concittadini di tutta la provincia hanno avvicinato i vari referenti locali del nostro partito per rappresentargli un grave problema. E cioè delle difficoltà che ci sono sul tratto ferroviario delle Bari Sud. Cioè quel treno che partendo da Bari arriva sino addirittura a Taranto. È un treno regionale molto utilizzato dai nostri concittadini, soprattutto dai pendolari o dagli studenti che quotidianamente lo utilizzano per recarsi sul posto di lavoro. Ma è una linea estremamente pericolosa. Le cronache di questi anni hanno ampliamente riportato i fatti più eclatanti. Qualche anno fa c'è stata addirittura una ragazza, il 13 gennaio del 2009, una ragazza è scivolata ed è finita con un piede sul binario e le hanno amputato il piede perché le è passato sopra il treno. Addirittura a settembre del 2011, le cito i fatti più eclatanti, alcuni ragazzi hanno tirato il freno manuale del treno, bloccando il treno, e il povero capotreno che è intervenuto per sanare la situazione è stato semplicemente aggredito ed è stato picchiato a sangue e finito in ospedale. Tutto questo succede purtroppo perché, a nostro parere, mancano i controlli. Potrei citarle tanti altri episodi che sono stati a noi segnalati. Ragazze molestate, disabili, i quali non solo devono viaggiare in situazioni sicuramente non confortevoli, perché sappiamo tutti quanto siano pieni questi treni. Però molto spesso sono sottoposti anche alle violenze e alle minacce di questi avventori che, non essendo controllati, prendono il sopravvento. O anche i poveri anziani, gente a cui vengono sottratti i soldi, a cui viene sottratto il telefonino o a cui viene sottratto il portafoglio. Allora, questa questione è stata portata all'attenzione. Noi abbiamo posto la questione all'attenzione del vice prefetto, il quale è ovviamente deputato all'ordine pubblico. E gli abbiamo chiesto di sensibilizzare tutte le forze dell'ordine affinché anche sui treni locali vengano messi degli agenti di polizia o dei carabinieri. E che cosa è stato risposto? Guardi, il vice prefetto è stato, devo dire, molto gentile nell'accoglierci. E lui ci ha detto che si farà carico del problema e che provvederà a sensibilizzare le forze dell'ordine. La questione torna probabilmente ad essere una questione di organico legata alla presenza. Lui non si è sbilanciato, come è normale, non voglio dire giusto che sia, è normale che sia. Lui non si è sbilanciato, non ci ha parlato di problemi. Ha detto che rappresenterà la problematica e fra l'altro ci ha confermato che prima di noi anche i sindacati delle ferrovie avevano segnalato, proprio alla prefettura avevano segnalato questo problema. Adesso vedremo che cosa si farà. Io spero che si prendano provvedimenti, perché se non saranno presi provvedimenti a breve, allora sicuramente noi come partito saremo ancora più impegnati per cercare di ottenere una risoluzione a questo problema che è grave. Siete dati dei tempi? Noi non ci siamo ancora dati dei tempi. Io gli ho detto in maniera molto netta e chiara che ci risentiremo, ci faremo risentire per riaffrontare la questione. Noi facciamo anche una questione di libertà. Essere liberi significa anche e soprattutto essere liberi di poter andare al proprio lavoro senza dover rischiare la vita. Ci mancherebbe, assolutamente, mi pare anche giusto. Tra l'altro per chi fosse a casa e avesse compreso di che problema stiamo parlando o perché lo ha vissuto in prima persona, non sarebbe male utilizzare la nostra redazione da ponte. insomma segnalateci questo tipo di esperienze soprattutto su questa tratta o magari in altre situazioni simili. Noi potremmo girarvele a conforto di un dossier che è evidente, che state preparando, che avete a disposizione. Sui fatti sicuramente c'è una discussione più forte che si può intraprendere. Io credo che sia importante la sinergia in questo caso. La sinergia di chi come voi in maniera esemplare, che fa informazione e anche attraverso l'informazione riesce a risolvere i problemi e di chi come noi invece è impegnato sul fronte politico e ha il dovere di essere vicino ai cittadini e di risolvere i problemi che attanagliano i nostri concittadini. E allora buon lavoro. Raccolgo la vostra disponibilità e spero che ci possa essere una collaborazione su questo e anche su altri temi di sensibilità. Ma assolutamente sì. E l'abbiamo detto prima parlando di Musi. Il dialogo deve prescindere da ogni segno distintivo ideologico o di partito perché è un discorso di civiltà comune e di utilità. E quindi è così che deve essere quando si vogliono fare le cose per bene. Assolutamente. Grazie allora per essere stato con noi e ci faccia sapere come evolve. Noi se abbiamo le segnalazioni da casa gliele gireremo. La ringrazio. Andiamo con le notizie. Torniamo ad occuparci della vicenda dei Marò italiani detenuti in India. Non si tratta di un aggiornamento riguardo alla loro situazione ma parliamo delle elezioni nella regione indiana del Kerala. Un fatto rilevante anche in virtù della detenzione dei due soldati pugliesi accusati di aver ucciso due pescatori scambiati per pirati. Le elezioni sono state vinte dal partito di maggioranza del congresso che guida lo stato del Kerala. Elezioni che hanno avuto un peso notevole sulla vicenda che ha coinvolto i due Marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Entrambi, lo ricordiamo, sono detenuti in India dal 20 febbraio scorso. Intanto il sindaco di Taranto e Pazio Stefano ha scritto alle famiglie dei pescatori indiani uccisi offrendo la possibilità ai parenti delle vittime di seguire corsi per una prospettiva di lavoro. Veniamo alla questione giudiziaria che interessa la famiglia barese dei De Gennaro. Non sono un tecnico, così Gerardo De Gennaro ha risposto al GIP, ha respinto le accuse di corruzione. Anche suo fratello Daniele De Gennaro, direttore generale della DEC SPA, ha contestato le accuse, tutte le accuse. Allora il riepilogo di quanto è avvenuto ieri in questo servizio. È durato meno di un'ora l'interrogatorio di garanzia di Gerardo De Gennaro, amministratore di fatto della DEC SPA e consigliere regionale PD ai domiciliari del 13 marzo scorso con le accuse di froda in pubbliche forniture, falso e corruzione nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Bari sul presunto malaffare nelle opere pubbliche realizzate dalla DEC a Bari dal 2004 ad oggi. Gerardo De Gennaro ha risposto alle domande del GIP Michele Parisi spiegando per quanto riguarda le contestazioni di falso e froda nei progetti per i due parcheggi interrati di Piazza Giulio Cesare e Piazza Cesare Battisti di non essere un tecnico e quindi di non essersi mai occupato degli aspetti tecnici dell'appalto in ragione del suo ruolo di amministratore all'interno della società. Ha contestato anche le accuse di corruzione nei confronti di Gennaro Russo dirigente regionale responsabile della procedura via arrestato nella stessa indagine e nei confronti di Giovanni Micunco ex comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ha detto di aver offerto un contributo alla festa dei Vigili e non direttamente all'allora comandante. Interrogato anche Daniele Giulio De Gennaro direttore generale della DEC SPA anche lui ai domiciliari da una settimana per frode in pubbliche forniture falso corruzione e truffa con riferimento anche all'appalto per il centro direzionale del San Paolo. Anche lui nell'interrogatorio di due ore ha contestato le accuse e ha risposto a tutte le domande spiegando di non essersi mai occupato di questioni tecniche inerenti collaudi e progetti ma di gestire l'organizzazione della società. Con i due di oggi si sono conclusi gli interrogatori di garanzia dei seti arrestati secondo gli inquirenti inoltre la società DEC del gruppo De Gennaro di Bari ha avuto una contabilità di cassa parallela da 3 milioni di euro nella quale avrebbe annotato anche il pagamento di stipendi in nero definendoli fiori per 200 mila euro. Non sarebbe solo un sospetto ma quanto accertato dalla Guardia di Finanza esaminando la documentazione informatica sequestrata presso il gruppo De Gennaro attraverso la quale sono state ricostruite 908 movimenti di cassa nei soli anni 2006-2007. Ieri il Consiglio Comunale a Bari molto acceso con il sindaco Michele Emiliano che per più di un'ora ha parlato tracciando una serie di bilanci rispetto ad argomenti ovviamente di natura giudiziaria che interessano appunto l'inchiesta che riguarda la famiglia De Gennaro ma non solo una difesa quasi fosse in un'aula di tribunale ecco il servizio. Non ha nessuna intenzione di dimettersi né tantomeno di sottrarsi al confronto politico giuridico e amministrativo il sindaco di Bari Michele Emiliano nell'aula del Consiglio Comunale lo ha ribadito a chi dai banchi dell'opposizione lo scorso fine settimana le ha chiesto di farsi da parte dopo lo scandalo sugli appalti che sarebbero risultati truccati ed affidati dal comune di Bari ai De Gennaro lo ha praticamente urlato in aula mentre spiegava passo dopo passo la posizione del comune in merito ai parcheggi realizzati dalla DEC più che il sindaco di Bari Michele Emiliano sembrava essere tornato a ricoprire i panni di magistrato una difesa fiume per una vicenda cafchiana detto il sindaco di Bari interrotto da qualche protesta dei consiglieri di opposizione ed ha battute ai colleghi per rallentare la tensione quando si tocca il dolente tasto dei regali ricevuti dai costruttori e quanto Salvatore parla tu dite tu l'agnero non lo devi regalare perché perché ecco regalo la vogliamo per favore ma te lo dico te lo dico con tutta la semplicità e lo dico veramente a tutti perché viviamo tempi nei quali si rischia si rischia che la faccia di un gran uomo possa essere ridicolizzata in tutta Italia in tutti i telegiornali dovendo io spiegare a mio figlio di dieci anni papà ma che cosa hai combinato a 52 anni dopo aver servito il mio paese da Agrigento a Primisi dopo aver messo con gioia in palio la mia vita sempre e lo farei domani ancora tutti voi lo sapete e i paesi lo sanno che per me servire lo stato significa mettere in palio la mia vita ma cosa volete che a me interessi di una cosa materiale e in merito alla vicenda delle case di via Pappacena ha spiegato di aver chiesto direttamente all'allora PM Roberto Rossi se la delibera consigliare avesse delle irregolarità ricevendone in cambio rassicurazioni con il magistrato che aveva sequestrato le abitazioni il dottor Rossi oggi membro del consiglio superiore della magistratura ho avuto un colloquio nel quale ho detto chiaro chiaro al dottor Rossi il consiglio comunale da me l'amministrazione da me coordinata è disponibile a portare in consiglio comunale questa soluzione salvo che mi permettere salvo che non ci siano dei profili di perplessità questi profili di perplessità non furono mai manifestati dalla procura della Repubblica tutti quanti mi dicono eh vabbè fino a morta la sei cavato ma ora che arrivano le case di via Papaceto cosa volete che succeda quando qualcuno si dovesse dovesse concludere l'indagine di via Papaceto questo dovrebbe accadere noi abbiamo semplicemente in questa amministrazione sanato una vicenda giudiziaria caschiana caschiana e non solo la questione che riguardava le case di via Papacena la vicenda che riguardava la famiglia De Gennaro è stata toccata ieri all'interno di questo consiglio comunale così diciamo teso ma anche la questione relativa alla fondazione Petruzzelli che sicuramente nei giorni precedenti la notizia degli arresti relativi appunto ai parcheggi sotterranei di Bari ha tenuto banco e quindi anche in questo caso Michele Emiliano ha voluto dire la sua il sindaco di Bari Michele Emiliano dalle vicende di questi giorni ha imparato molte cose tutte spiegate nell'intervento fiume durato 87 minuti davanti al consiglio comunale ieri e in cui ha avuto modo di chiarire anche tutto quanto si è detto nelle ultime settimane a proposito della fondazione Petruzzelli disegnato da tutti come un ente dissestato da una gestione dissennata oggi in una munizione formale esattamente come quella che noi stiamo facendo adesso perché noi stiamo parlando formalmente con un segretario comunale un verbale è emesso e non c'è nessun buco da 8 milioni perché la parola buco corrisponde a perdita di esercizio non c'è nessun buco da 8 milioni nella fondazione che la perdita di esercizio contabilizzata in questi anni ammonta a 3 milioni e 900 mila euro che questa circostanza è stata confermata anche dal procuratore generale presso la corte dei conti che di questi 3 milioni e 9 in qualche modo grazie a contribuzioni straordinarie del comune di Bari sono state coperte 2 milioni e 500 mila euro e che residua una perdita di esercizio di solo 1 milione e 400 mila euro ora provate a immaginare il mio disappunto davanti a tutta l'Italia sono stato fatto passare per quello che aveva fatto un buco da 8 milioni di euro e scopro oggi che non è andata ma Emiliano continua a spiegare e ripete a chi lo ha dimenticato di essere stato lui a chiedere il commissario conclude poi l'intervento allontanando l'ipotesi che lo vedrebbe vittima di un complotto della magistratura pur sapendo che a volerlo colpire erano e sono in molti era così importante colpire me era così importante colpire me che stanno tirando in mezzo una città intera che stanno tirando in mezzo anche cose che non centrano in questa storia e non è una teoria del complotto iniziale che vi ho detto non esiste perché la magistratura italiana complotto non ne ha mai fatto e dunque andiamo ancora sulla vicenda Petruzzelli e per salvare il Petruzzelli l'unica strada resta quella della ricapitalizzazione straordinaria da parte dei soci fondatori ne è convinto il commissario straordinario Fuortes sentite un'audizione in sesta commissione alla regione Puglia come tra l'altro avete sentito poco fa dalle parole di Emiliano ricapitalizzazione straordinaria per salvare il Petruzzelli l'aveva chiesta il neocommissario Fuortes in conferenza stampa annunciando il passivo da 8 milioni e la conferma arriva dall'audizione in commissione cultura del consiglio regionale chiesta dal presidente del consiglio regionale Onofrio in trona è evidente che la regione aveva la necessità di guardare a questo problema con la dovuta attenzione la situazione non è delle più rosie non è drammatica c'è bisogno dell'intervento degli enti fondatori perché si proceda ad una ricapitalizzazione per azzerare il passivo si è avuto conferma di quello che già era emerso una grande situazione deficitaria cioè che rischiava e rischia di far fallire la fondazione se non c'è una ricapitalizzazione immediata da parte dei soci fondatori c'è una conferma drammatica che si è proceduto c'è senza regole senza che ci fosse all'interno della fondazione un regolamento di contabilità o un regolamento di acquisizione del personale c'è senza pianta organica regione, provincia e comune soci fondatori della fondazione dovranno in pratica ricapitalizzare per almeno 6 milioni rimane la questione della proprietà che a detta dell'assessora regionale alla cultura Silvia Godelli è una spada di Damocle che rallenta anziché accelerare la crescita della fondazione positivo però il commento di Fuortes sul futuro del Petruzzelli sarà un anno di risanamento del teatro per partire nel 2013 diciamo con un teatro che può veramente svilupparsi quest'anno rispetteremo la programmazione quindi le opere e i balletti in calendario e utilizzeremo appunto quest'anno per rimettere a posto tutti i vari tasselli che sono un pochino fuori posto già dal prossimo anno credo che ma non in Italia a livello europeo internazionale può diventare tranquillamente un grande palcoscenico a livello europeo internazionale e noi ce l'auguriamo paura a Gravina in Puglia all'alba in via Brindisi si è verificato il crollo di un muro o di un edificio a due piani attigo ad un cantiere come vedete in queste immagini tratte dal sito internet Gravina Life le 11 famiglie che risiedono nell'immobile dopo aver avvertito dei rumori hanno abbandonato lo stabile poco dopo si è verificato il crollo del muro tra le prime testimonianze è quella di un inquilino disperato Francesco Vitale di 50 anni che ora dice di trovarsi senza una casa ed un lavoro le cause di quanto avvenuto sono tutte da accertare afferma il comandante della polizia municipale di Gravina Nicola Ciccolecchia il lavoro in corso nel terreno al confine col muro crollato sembra fossero in regola ed autorizzati e sempre questa mattina attimi di panico invece a Brindisi nel rione Sant'Elia in un'abitazione in via delle ricamatrici un televisore è andato in cortocircuito sprigionando fiamme che hanno cominciato a bruciare alcune suppellettili della cucina rischiando di far esplodere una bombola di gas i vigili del fuoco hanno spento le fiamme riuscendo a portare via la bombola di gas prima che potesse appunto esplodere cambiamo argomento per i precari del servizio d'emergenza 118 domani potrebbe essere un giorno importante a fine mese scadono i loro contratti ma la regione Puglia è già al lavoro per garantire i loro posti di lavoro allora ecco il servizio domani potrebbero esserci buone notizie per i precari del servizio d'emergenza 118 in Puglia il DDL modifica integrazioni alla legge regionale 26 del 2006 interventi in materia sanitaria norme in materia di servizi d'emergenza 118 tornerà in terza commissione alla regione Puglia per l'approvazione definitiva si tratta di un provvedimento importante un disegno di legge finalizzato a garantire anche i posti di lavoro dei precari del 118 Pugliese i cui contratti scadono alla fine del mese e a tutelare il diritto dei cittadini a fruire del servizio fondamentale offerto da questi operatori della sanità pubblica per il consigliere del gruppo misto Franco Pastore scontato il passaggio definitivo dalla commissione al consiglio aspettiamo il referto della ragioneria altrimenti l'avremmo già deliberato nella scorsa seduta di commissione domani approveremo questo provvedimento questa norma di legge e quindi subito dopo sarà iscritto per il giorno 26 così ha stabilito la conferenza dei capigruppo per metterlo in consiglio regionale in modo tale che entro il 30 marzo che scade il prevedimento si possa dare respiro e serenità e quindi stabilizzare anche questo comparto che ha una rilevanza sul piano della sanità notevole diremmo quasi vitale quindi questa è una buona notizia Caraeli che abbiamo rilanciato che ovviamente è un approfondimento che hai curato tu quindi le prospettive a questo punto sembrano essere positive ma io comunque voglio vedere prima il provvedimento portato in aula e soprattutto il sì della ragioneria perché perché è sempre una questione di soldi infatti questo provvedimento era l'attenzione già dalla scorsa settimana della terza commissione però guarda caso la ragioneria non aveva dato il parere e il parere della ragioneria è fondamentale perché senza soldi i contratti non possono essere rinnovati e di conseguenza quando mancano i soldi guardate un po' vengono sempre tagliati sui servizi sui servizi ai cittadini e questo è anche uno di questi casi perché perché comunque si ritiene che nella sanità ci siano anche degli sprichi ma secondo me sicuramente questo non è uno spreco per cui mi auguro diciamo che il consigliere Pastore è stato ottimista mi auguro che domani questo parere della ragioneria arrivi in terza commissione e che il 26 lunedì direttamente l'aula approvi questo perché l'ha detto e insomma i contratti sono in scadenza il 30 marzo scadono e ricordiamo che il 118 è il numero che secondo me è utilizzato da milioni e milioni non solo di cittadini pugliesi che lo hanno utilizzato in ritardo perché è stato attivato in ritardo rispetto ad altre regioni ma che salva la vita a molte persone assolutamente sì ecco e questo è un passaggio importante e su cui poi tutti dobbiamo essere pronti a ragionare prima di cambiare argomento tu stai discutendo con i nostri amici a casa di lavoro perché inevitabilmente tra tutte le domande che facciamo quotidianamente quando ci ritroviamo ad affrontare temi inerenti il lavoro e poi come sta accadendo in questi ultimi giorni inerenti l'articolo 18 e la riforma del lavoro le impressioni e i commenti si scatenano eh sì si sono proprio scatenate si sono anzi infervorati perché non c'è nessuno quasi al momento che difenda questa riforma eh perché infatti Maurizio fa una domanda con una risposta retorica esiste evidenza empirica fra abolizione dell'articolo 18 e creazione di nuovi posti di lavoro se non c'è il governo Monti non può che andare a casa invece secondo Giuseppe credo che a livello logico se si facilita il licenziamento ci saranno più licenziamenti non più occupazione in ogni caso ci sarà maggiore sottomissione del lavoratore e quindi a chi giova tutto questo eh secondo Nico forse con una riforma del lavoro seria si potrebbe fare qualcosa ma questa riforma peggiora solo la situazione a sfavore dei piccoli imprenditori che continuano a morire come mosche e a vantaggio delle grosse aziende che potranno licenziare più facilmente con gli ammortizzatori pagati dai piccoli imprenditori che stanno già alla canna del grass e quindi bravo Monti quindi naturalmente è un bravo certo però c'è da fare una riflessione anche su quelle 27 mensilità di cui abbiamo appreso ieri che comunque costituiscono un'indenità pesante eh sì anche per un grande imprenditore non solo un piccolo imprenditore da sopportare che allora volesse licenziare in maniera così certo ma questo è un bonus ma io sono d'accordo con Angelo perché lui dice ma come si può credere di aumentare i posti di lavoro modificando l'articolo 18 le aziende mica non assumono perché non possono licenziare se avessero le commesse lo farebbero non assumono perché non hanno mercato e poi ricordo che l'articolo 18 non si applica alle piccole e medie aziende che sono la spina dorsale della nostra economia sono le piccole e medie aziende a soffrire la crisi e a licenziare invece che assumere e non vengono certamente aiutate con questo provvedimento io sono d'accordo assolutamente sì anche se dalle ultime parole di Monti si parla di un'estensione anche alle piccole aziende dell'articolo 18 però insomma questo è un nodo su cui continueremo a confrontarci anche nei giorni avvenire ma continuate a scriverci noi adesso parliamo di un'altra questione molto importante tra l'altro anche all'indomani di un provvedimento regionale molto forte che non fa discutere perché effettivamente induce tutti ad una riflessione in materia di ambiente di raccolta differenziata e sappiamo che ieri l'assessore Enicastro ha commissariato alcuni comuni della regione Puglia insomma intimando loro di raggiungere degli obiettivi che poi sono tutti quelli noti e oggi parliamo per fortuna di una situazione virtuosa che ha incassato il comune di Cellammare nel Barese e ne parliamo con il vice sindaco Michele De Santis che è il nostro ospite buongiorno grazie per essere qui allora il primo risultato positivo ci induce subito ad una riflessione noi abbiamo raggiunto ottimi risultati perché dopo un mese e mezzo abbiamo il 76% di raccolta differenziata di cui una buona parte di questo è il famoso umido il compost parliamo di raccolta porta a porta il nuovo servizio di raccolta porta a porta che è partito dal 12 febbraio anche se mi permette di dire anche precedentemente il comune di Cellammare era tra i primi della provincia di Bari come raccolta differenziata perché raggiungeravamo tra il 25 e il 30% con il vecchio sistema dei bidoni per strada devo dire che è tutta un'altra cosa perché se venite a Cellammare vedete che le strade sono pulitissime senza questi bidoni un po' squalliti che si vengono per le strade è qualcosa di eccezionale e devo dire che la gente sta rispondendo molto bene tranne alcuni casi perché abbiamo raggiunto degli ultimi risultati e quello che posso dire a tutti è coinvolgere i ragazzi perché noi abbiamo fatto un'informazione straordinaria nelle scuole come l'avete organizzata questa informazione? abbiamo stati scuola per scuola classe per classe o due o tre classe alla volta abbiamo fatto delle riunioni abbiamo cercato ai ragazzini sia delle scuole elementari sia delle scuole medie perché noi è uno stituto comprensivo asilo scuole elementari scuole medie non abbiamo scuole superiori ma secondo me si parte dalle scuole elementari scuole medie perché il nostro futuro come dicono tutti e della verità sono loro sono i ragazzi e io sono convinto che se noi riusciamo a parlare con la gente soprattutto con i ragazzi a spiegargli quello che vogliamo e che dipende pure molto del loro futuro da questo si ottengono dei risultati e infatti noi li stiamo vedendo a questo punto effettivamente i ragazzi si sono fatti portatori io quando se mi permetto quando facevo la riunione con i ragazzi dicevo ma i vostri genitori hanno detto qualche parolacce nei confronti del vice sindaco dell'amministrazione e loro mi dicevano sì l'hanno detto perché noi abbiamo stravolto il modo di fare della gente perché prendevano le buste e li portavano nei cassonetti in qualsiasi orario adesso invece si devono attrezzare per fare la raccolta differenziata con i kit che abbiamo portato a casa di ognuno e a determinati orari in determinati giorni si porta l'umido la carta la plastica l'indifferenziata che sarebbe il rifiuto normale ripeto per adesso sta funzionando molto bene assolutamente sì avete un programma di lavoro rispetto noi vogliamo diventare il primo paese di ciclone di tutta Italia non soltanto della Puglia allora avete un progetto ambizioso il nostro è un piccolo paese ma devo dire che siamo avvantaggiati perché noi non abbiamo grosso contomini a Cella Mare sono tutte villette e case basse è bellissimo se viene a fare una passeggiata tra il nostro ospite vedrà che è un paese bellissimo con un piccolo centro storico è piccolo ma tutti quelli che vengono rimangono incantati perché c'è un castello pure a Cella Mare che stiamo cercando di ristrutturare in tutti i modi possibili perché sa benissimo che i finanziamenti sono molto ristretti sono quelli che sono e quindi si presta benissimo e credo che otterremo dei risultati molto molto ristrutturi poi posso dire che Cella Mare sarà verrà costruito un impianto di compostaggio un nuovo impianto di compostaggio super moderno super tecnologico anaerobico che ripeto non inquina e non rimane cattivi dei dovori perché qualcuno pensa che l'impianto di compostaggio può portare inquinamenti cattivo assolutamente no anche di questo avete avuto modo di parlare con la cittadinanza abbiamo fatto due o tre assemblee con l'intera cittadinanza se ne faranno ancora perché adesso l'impianto è in fase il progetto in fase di esame da parte dei nuclei di valutazione della regione mi dicono che dovrebbe essere tutto apposta e entro aprile partire la gara da parto c'è un finanziamento pubblico della regione Puglia di 6 milioni d'euro e ci sarà un intervento privato di altri 13 milioni e 700 mila perché l'impianto complessivo costrerà sui 20 milioni quindi ad aprile si partirà da alcune parti e ripeto non inquina non emana cattivatore porta solo benefici perché ricordiamoci una cosa i rifiuti di chi sono li deve smaltire secondo me quindi non è che uno li vuole nascondere sotto il matalasso sotto il paio i rifiuti si devono eliminare con l'impianto di compostaggio con l'impianto di biostabilizzazione che sta conversando e secondo me mi attirerò le ire tutti gli ambientalisti ma senza termovalorizzatore e beh questo è un discorso diciamo molto pericoloso lo so per questo ho detto non so dove arriveremo è la verità e beh questo è sicuramente ecco Eli questo è un argomento che i nostri amici potrebbero perché gli ambientalisti si sono d'accordo i rifiuti dove li mettiamo perché se andiamo nelle grosse città europee i termovalorizzatori stanno nelle città senza che regolano però effettivamente comunque bisogna fare informazione bisogna raccontare per bene le cose che non sono più quelli di 20 anni fa e probabilmente nei piccoli centri questa possibilità di raccontare di far metabolizzare le scelte perché inoltre siamo strada per strada nei piccoli centri ci conosciamo tutti noi c'è la mare sono 6.000 abitanti quindi è molto pesante io posso dire che vengono sotto casa mia sotto casa del sindaco per strada ci fermano si parla ci sono i pregi e i difetti assolutamente come in ogni cosa però abbiamo voluto questa responsabilità ce la prendiamo e andiamo avanti e quindi con i 6.000 avete condiviso questa voglia di diventare primo comune di ciclo in Italia? con la maggior parte della popolazione è contentissimo c'è sempre qualcuno che e anche gli anziani gli anziani io devo dire che rispondono bene bisogna dire poi che qualche anziano che c'è che non ce la fa noi mandiamo direttamente gli operatori ecologici a casa loro a prendere i rifiuti e a fare la differenziata ci sono dei casi particolari che noi trattiamo assolutamente in maniera particolare però devo dire ripeto che sta rispondendo la popolazione sta rispondendo bene non possiamo che farvi complimenti e monitorare la situazione anche perché se raggiungerete il quid per diventare i primi d'Italia lo vogliamo sapere prima noi senza altro senza altro il nostro obiettivo è stare di prima e sapere una domanda sì i soldi che risparmierete come li investirete? questo è un problema caro perché la gente pensa che con la differenziata si risparmia subito purtroppo non è così con la differenziata si paga di più all'inizio però noi abbiamo dovuto aumentare la tassa di rifiuti del 100% l'abbiamo dovuto aumentare perché che è successo con la chiusura della discarica di Conversano l'apertura dell'impianto di biodiversità di Conversano si pagava nella discarica 57 euro a tonnellata per l'impianto se ne pagano 110 adesso e appena aver affermato il contratto se ne pagheranno 125 quindi è più che raddoppiato e abbiamo dovuto aumentare la tassa di rifiuti ma quando tutto entra in regime noi riusciremo a diventare il primo paese di sicuro ci sono degli incentivi per la differenziata comunque noi non porteremo più tanti rifiuti in discarica quindi risparmio ci sarà però questo deve andare in regime e naturalmente ci saranno le agevolazioni per i cittadini magari non con la diminuzione della tassa di rifiuti perché la tassa di rifiuti l'80% deve essere coperta interamente dai cittadini i comuni non possono però famiglie meno abiete famiglie numerose avranno sicuramente delle agevolazioni i soldi verranno reinvestiti per i cittadini con risparmi per tutte le famiglie se potremmo diminuire i tassi di rifiuti certamente che lo faremo perché è pure interesse mio e beh certo però le agevolazioni ci saranno di sicuro però non da subito l'abbiamo detto no da subito è impossibile deve andare in regime la raccolta differenziale il mio obiettivo è la Svezia dove addirittura chi ricicla viene addirittura ricompensato economicamente ma noi arriveremo pure a quello con il nostro obiettivo testere card per ogni cittadino più porti rifiuti più risparmi sulla tassa di rifiuti avrai agevolazione di qualche certo però se prima non ci rendiamo conto non si stabilisce non ci stabilizziamo scusate con quanti rifiuti vengono portati in discarica non possiamo fare una cosa del genere ma l'importante è che almeno ci sia la voglia e l'intenzione di fare ma certamente il nostro paese noi vogliamo che diventa un paese pulito bello il paese dove viviamo dove vivono i miei figli dove ho scelto di vivere beh ci tengo moltissimo grazie grazie per essere stato con noi e ancora complimenti parliamo di un'altra questione molto spinosa perché restituire alle donne un diritto quello dell'accesso alle cariche elettive continua a essere argomento di grande discussione ed è in estrema sintesi l'obiettivo della proposta di legge di iniziativa popolare che intende modificare l'attuale legge elettorale pugliese e che ha visto mobilitarsi non solo esponenti politici ma anche associazioni la raccolta firme è iniziata e allora sentiamo provare a raggiungere la parità nell'accesso alle cariche elettive così come prevede la Costituzione quel 50 e 50 che resta un miraggio anche nella moderna regione Puglia dove su 70 consiglieri 67 sono uomini è questo l'obiettivo della proposta di legge regionale di iniziativa popolare sulle norme per l'equilibrio di genere nell'elezione del Consiglio regionale del Presidente della Regione e mentre in tutta Italia stanno facendo delle petizioni di richiesta ai partiti per assumere questa mancanza di donne e noi invece in Puglia ci riprendiamo la parola come donne e lo facciamo attraverso dei banchetti ci saranno dei banchetti anche alla corsa della Avon insomma in altri luoghi in cui le donne e gli uomini di Puglia che vogliono cambiare un po' questo sistema elettorale partecipano e esprimono la loro posizione quindi noi chiediamo che nell'attuale legge elettorale regionale siano introdotte delle modifiche che sono queste quindi le liste formate dai partiti al 50% di donne e al 50% di uomini quindi non si parla più di quota rosa ma di rispetto di quello che è la società anzi forse noi siamo anche un po' di più nella società la lista significa non che le donne siano per forza elette significa che c'è all'interno della lista una rappresentanza giusta che rispecchia la società di uomini e donne le liste così composte o meglio le liste che non sono composte così saranno rese inammissibili entro quando vanno raccolte queste firme e secondo lei sarà possibile che questo disegno di legge comunque entri in vigore naturalmente già dalla prossima legislatura allora le firme noi le raccoglieremo fino al fine di luglio poi le dobbiamo consegnare entro il 2 settembre perché la data di scadenza è dei 6 mesi questa proposta di legge arriverà in consiglio e a questo punto dovranno i consiglieri attualmente in carica votarla e farla diventare legge della regione Puglia io penso che se ciò non dovesse avvenire a fronte di tante firme ci sarà un po' una responsabilità se non dovessero poi approvarla viaggiava tranquillo ed indisturbato con 83 kg di hashish alla guida della sua lancia delta quando al casello autostradale dell'A14 all'altezza di Trani è stato fermato dai militari della guardia di finanza è stato il comportamento nervoso dell'uomo un cittadino foggiano ma residente in Lombardia alla vista delle fiamme gialle ad insospettire i militari che hanno deciso di ispezionare il mezzo e qui la scoperta della droga 95 panetti di hashish contenuti in due trolley e un borsone di tela sistemati nel portabagagli dell'auto rapinano un Rolex e la borsa contenente documenti ad un imprenditore e nella fuga a bordo di uno scooter investono due carabinieri che tentavano di bloccarli due baresi Marco Carrassi di 21 anni e Gaetano Vulpo di 22 sono stati comunque arrestati dai militari dell'arma l'episodio è avvenuto ieri sera nel quartiere Murattiano i due malviventi sono sospettati di aver organizzato altre rapine ferite lievi per l'imprenditore e i carabinieri cambiamo argomento fa riflettere i giovani e su quanto accaduto per il robustire i sentimenti di solidarietà e cooperazione e questo è l'obiettivo degli organizzatori raggiunto anche quest'anno con la quarta edizione del treno della memoria tracciato il bilancio del viaggio è avvenuto lo scorso febbraio dalla sua prima edizione nel 2005 ad oggi migliaia di giovani pugliesi hanno vissuto l'esperienza del treno della memoria tornando più maturi e consapevoli quest'anno sono stati oltre 600 i ragazzi dalla Puglia partiti con il quarto treno della memoria organizzata dall'associazione terra del fuoco mediterranea questa è l'assemblea che noi chiamiamo di restituzione cioè una volta che torniamo dal treno della memoria e anche quest'anno quindi dal treno 2012 noi vogliamo rincontrare i ragazzi sentiamo questa esigenza perché crediamo sia necessario poter analizzare con più lucidità o forse con quel carico magari più asciutto di emozioni che il treno ci regala ogni anno un percorso formativo di approfondimento sui temi dello sterminio nazista e sulle persecuzioni razziali che è l'obiettivo di porre le giovani generazioni a confronto con un periodo che ha segnato profondamente la storia europea e quella italiana un modo per rendere i giovani più maturi e consapevoli di cosa voglia dire sterminio il tema più importante secondo noi in questo momento è la zona grigia la zona grigia che è come la definisce Primo Levi la zona in cui ci si colloca per ignavia cioè la zona in cui non si vogliono prendere decisioni ma ci si lascia andare dalle decisioni altrui quindi in questo rientra molto l'importanza dell'informazione di una corretta informazione Per il 25 marzo a Bari le donne saranno chiamate a scendere in campo non solo in senso figurato ma per un importante gesto di solidarietà domenica infatti partirà la quindicesima edizione dell'Avon Running Tour 2012 una gara podistica che ha l'intento di raccogliere fondi per la Lilt e la Onlus Safia un invito a tutte le donne scendendo in gara o in semplice partecipazione domenica 25 marzo a Bari nella prima tappa dell'Avon Running Tour italiano del 2012 potrete compiere un importante gesto di solidarietà con l'iscrizione all'Avon Running costo 10 euro le atlete o le semplici partecipanti contribuiranno a devolvere l'incasso delle iscrizioni alla Lilt di Bari la Lega Italiana per la lotta contro i tumori e a Safia Onlus centro antiviolenza sulle donne l'appuntamento organizzato quest'anno per la prima volta dal Cus Bari ha una grande tradizione di impegno e si rinnova da ben 15 edizioni prevede gare podistiche da 10 o 5 chilometri e da quest'anno anche la staffetta 4 per 2 chilometri e mezzo tra le altre novità di questa edizione c'è la possibilità di scommettere 2 euro sulla runner di fiducia un altro modo per rimpinguare il monte degli incassi da devolvere in beneficenza chi ha costituito l'Avon Running la società 126 anni fa ha pensato già da allora di porre al centro dell'attenzione della donna i problemi della donna e quindi anche attraverso lo sport e questa gara si cerca di sensibilizzare sempre l'opinione pubblica per permettere una integrazione della donna nel mondo in generale e in questo caso attraverso lo sport intanto prima di andare avanti vi leggo una notizia dell'ultima ora che riguarda la strage di Tolosa sarebbe stato arrestato il presunto killer un componente di Al-Qaeda che questa mattina era stato individuato ha cerchiato la sua abituazione individuata e il palazzo poco prima che noi andassimo in onda dove lui risiedeva era stato evacuato evidentemente quanto si aspettava e cioè che il 24enne come leggiamo affiliato ad Al-Qaeda si arrendesse è avvenuto e quindi questo è il primo lancio che vi riportiamo poi ovviamente gli approfondimenti li leggerete tra pochissimo sui siti online ma anche tutti gli organi di informazione internazionali ne parleranno tra l'altro oggi si sono celebrati i funerali dei poveri bambini uccisi nella strage di qualche giorno fa cercando Picasso questo è il titolo dello spettacolo che ha avuto come protagonisti Giorgio Albertazzi e la Marta Graham Dance Company e che fra teatro e danza ha raccontato lo straordinario artista nel teatro Petruzzelli di Bari Giorgio Albertazzi è stato lo straordinario protagonista dello spettacolo di teatro danza cercando Picasso del teatro stabile del Friuli Venezia Giulia in coproduzione con l'ente autonomo Teatro di Messina e Orchestra Entertainment ospite della stagione 2012 del teatro Petruzzelli di Bari un incontro con Picasso tra parole e coreografie tra il ritmo dei versi e le geometrie dei corpi che danzano in cui Giorgio Albertazzi supportato dalla Marta Graham Dance Company racconta Picasso e la sua irruente visionarietà la sua natura di artista impetuoso e vulcanico il regista Antonio Calenda propone in questo lavoro la sua personale interpretazione dell'artista e una parte di questa rappresenta il cuore dello spettacolo parliamo del desiderio per la coda l'opera teatrale che il pittore scrisse tra il 14 e il 17 gennaio del 41 che fu rappresentata per la prima volta diretta da Albert Camus con un gruppo di attori eccezionali Jean-Paul Sartre Raimond Quenot e Simone de Beauvoir oggi invece ad essere interprete di questa straordinaria pièce è stato il grande Albertazzi che il pubblico barese ha applaudito ed apprezzato molto andiamo in pubblicità ci ritroviamo fra tre minuti per continuare a parlare di lavoro vedrete vi dicevo parliamo di lavoro perché è importante in un contesto come quello non perdere di vista le opportunità legate sempre a progetti formativi che sapete bene essere importanti in questo momento soprattutto per arrivare ferrati poi alla meta e soprattutto per avere bene l'obiettivo chiaro rispetto a quello in cui vogliamo provarci per questo abbiamo invitato le due referenti di un progetto formativo importante che parla di futuro che parla di comunicazione di come l'era digitale ha cambiato anche le professioni e quindi saluto le mie ospiti Valeria Vitaliano direttora del Master Media Communication Technology e Angela Leone presidente Omnia Pro ben arrivate parliamo subito subito di questo progetto così io non mi perdo in troppi preamboli e voi andate al sodo perfetto io innanzitutto volevo ringraziare Antenna Sud che ancora una volta dimostra di essere molto vicino all'imprenditoria emergente e questo è un grazie che voglio porgere a nome di tutte noi grazie grazie a voi siamo sempre cinque donne una sinergia importante poi dicevo il Master è nato per una osservazione noi abbiamo osservato che l'era digitale sta permettendo sta trasmigrando i tradizionali media verso i nuovi media e con essi sta crescendo anche un particolare interesse verso le figure professionali in grado di poter ricollocare tutto il sistema mediale nell'ambiente digitale e chiaramente con competenze in grado di poter comprendere tutte le dinamiche complesse alla base dell'informazione infatti noi con il Master MECT abbiamo come dire analizzato l'esigenza delle imprese del territorio cercando di creare delle figure professionali rispondenti agli sbocchi occupazionali del territorio non solo a livello regionale ma anche su scala nazionale infatti il nostro intento e sarà sicuramente quello sarà dare un'opportunità ai ragazzi di collocarsi non solo nelle imprese editoriali e giornalistiche tradizionali ma di rivalutare la loro professionalità nell'editoria elettronica online e offline nelle agenzie di grafica di pubblicità nella tv digitale interattiva perché loro devono operare per i media company e il content provider e quindi essere in grado di collocarsi in un area marketing di comunicazione e informazione non solo delle organizzazioni private ma anche pubbliche cioè ricordiamo che la comunicazione è fondamentale e di conseguenza anche saperla trasferire saperla fare è molto importante cercheremo con il nostro master di dare questi concetti e queste professionalità un'ultima informazione come accedere al master ci sono dei riferimenti che possiamo dare in ossemice a casa volevo innanzitutto anche permettetemi di fare un punto sulle caratteristiche e le peculiarità di questo master che sono principalmente due i docenti provengono tutti dal mondo imprenditoriale e quindi non ci sono saperi accademici ma saperi molto pratici abbiamo voluto un master estremamente poco teorico e molto pratico e di conseguenza è importante anche tutto il gruppo delle aziende che ci sta appoggiando fra cui Antenna Sud e se mi permettete voglio soltanto menzionarne le più importanti Media Farm la cittadella della comunicazione di Foggia Leader Mobile Amica 9 Domani Andriese Ruvo Live la casa di produzione di Alessandro Piva Web Simbiotic Bari TV e poi sicuramente ce ne saranno altre perché il nostro lavoro non è ancora completato non è assolutamente abbiamo un sito da lanciare www.omniapro.it sezione master benissimo ci saranno noi tutti coloro che vorranno chiederci informazioni Ricorderemo questo sito, anche la nostra redazione è disponibile a fornire questa informazione Speriamo che le richieste saranno tante Un altro punto a favore di questo master, le certificazioni Non rilasciamo il solito attestato di partecipazione a un master Ma ci sono sei certificazioni riconosciute a livello mondiale Alcune Adobe, una PHP e due Google Per cui gli allievi che seguono il master dovranno necessariamente conseguire le certificazioni Previo superamento esame Tutte le coordinate e i presupposti sono assolutamente ottimi Buon lavoro alle cinque donne E soprattutto un augurio a tutti gli aspiranti comunicatori che parteciperanno al master Noi passiamo ad un servizio che chiude in realtà oggi il nostro appuntamento Prima di fare poi il punto rispetto ai vostri interventi sulla rete Perché parliamo di questa iniziativa importante Bari ha aderito alla prima catena umana nazionale per dire no a tutti i razzismi Gli studenti accompagnati dai docenti ed alcuni genitori hanno circondato il teatro Petruzzelli Con un forte abbraccio Anche Bari ha aderito alla prima catena umana nazionale per dire no a tutti i razzismi Promossa dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri Con il patrocinio dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati Gli studenti accompagnati da docenti, genitori ed esponenti politici di provincia e comune di Bari Hanno abbracciato con una catena umana il Petruzzelli E tutti insieme sulle note dell'orchestra del Petruzzelli hanno intonato One Love di Bob Marley Senza colori politici, senza divisioni Comune di Bari, provincia, regione, Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale Presidenza del Consiglio dei Ministri uniti insieme ai bambini 300 bambini per dire no a tutti i razzismi Stessa maglietta, stesso sorriso, canti, balli Insomma diciamo che il razzismo va combattuto dai banchi di scuola E così mentre a Roma i migliaia cingevano il Colosseo A Bari 300 bambini abbracciavano il teatro Petruzzelli In contemporanea con altre 35 città italiane In occasione della giornata mondiale contro il razzismo Anniversario della strage di Sherpville in Sudafrica Dove il 21 marzo 1960 la polizia sparò sui manifestanti Uccidendo 69 cittadini neri che protestavano contro il regime dell'Apartheid Un'iniziativa che a sentire gli stessi bambini servirà a far riflettere E chissà in qualche modo a combattere le discriminazioni Non bisogna disprezzare la gente solo perché ha dei problemi fisici, mentali E di un'altra nazione sottosviluppata Quindi non ha le conoscenze che hanno le nostre nazioni Con questa maglietta e questa manifestazione Cerchiamo di diminuire le persone che credono al razzismo nel mondo Che bello Eli, chiudiamo con i nostri amici a casa i loro commenti I commenti naturalmente all'atto, all'aguato In cui è rimasto vittima il consigliere dell'Udc di Torino Musi è stato, naturalmente ricordiamo, è stato colpito da circa quattro proiettili E' stato definito da Gianni un esempio vile e meschino Che ancora una volta dimostra lo Stato in cui viviamo Alla faccia della democrazia E invece secondo Giovanni è non solo un atto vile Ma dimostra che forse manca proprio una questione di sicurezza nel nostro paese Si torna a parlare di sicurezza Secondo Domenico è un atto vergognoso e schifoso Ma è possibile tutto questo? Numerosi, come vi avevamo preannunciato Poi i commenti alla modifica Alla legge di riforma del lavoro Nico dice Il problema secondo me è che non si è capito Che si devono abbassare i costi dello Stato Sarebbe stato più giusto per assurdo Ridurre la cassa integrazione E tagliare un bel po' di costi dello Stato Invece di toccare l'articolo 18 Anche se pure io lo ritengo obsoleto E protegge molti lavativi Detto questo, o si riduce di molto il costo della macchina statale O nessuna riforma salverà questo paese Perché mancano le risorse per le riforme serie Sia fiscali che di lavoro Stiamo solo perdendo tempo e soldi Secondo Gianluca ci saranno solo più licenziamenti Il tempo ci dirà se abbiamo ragione Secondo Francesco l'articolo 18 è paralizzante per le imprese È necessario procedere ad una mobilità sostenuta e sostenibile del mercato del lavoro E questo l'unica commento, l'unica voce fuori dal coro Secondo Gianluca invece come al solito in Italia Si comincia dal verso sbagliato In un paese dove lo sviluppo, l'innovazione e la ricerca Stanno ancora allo stato embrionale Al contrario di altri paesi europei Si permettono anche di modificare l'articolo 18 Tra poco la nuova classe operaia sarà solo fatta di disoccupati Invece secondo Michelangelo lui è a sostegno dello sciopero Lui dice Comunque io ricordo che quando in Francia tentarono di inserire contratti di lavoro atifici Ci furono tante e tali proteste che il decreto fu ritirato La strada deve essere quella Poi c'è l'arma del voto Voglio proprio vedere se tutti quelli che oggi si lamentano voteranno ancora Chi sostiene questo governo Quindi PD, PD, L, Udc E se così fosse sarebbe da prenderli a schiaffi virtualmente E poi concludiamo con la primavera Perché avevamo chiesto se quest'area di primavera comunque in qualche modo Avesse raggiunto i nostri internauti E quali fossero state le conseguenze E allora abbiamo Anna che dice Astronomicamente era ieri il primo giorno di primavera Ci mette un sorriso visto che l'anno è bisestile Invece Emilio dice Con l'arrivo della primavera Scusate arriva anche la mia allergia Fortunatamente quest'ultima oggi non c'è E l'allergia da polline e polvere E beh insomma siamo tutti in allerta in questo senso con le allergie Prima di salutarci e di dare l'appuntamento a Pronto Dottore Che segue subito dopo la pubblicità Un aggiornamento riguardo la strage di Tolosa Perché rispetto a quanto hanno battuto le agenzie pochi minuti fa C'è un nuovo dispaccio che racconta della versione della polizia Che parlerebbe di operazioni ancora in corso e di un arresto non avvenuto Però pochi minuti fa invece Radio BFM aveva raccontato dell'arresto di Mohamed Merat 24enne francese di origini algerine Sospettato degli omicidi di tre soldati francesi a Tolosa E della strage di lunedì davanti al liceo ebraico del capoluogo della Garona La polizia però come vi dicevo continua a confermare A non voler confermare l'arresto Sappiamo che però anche il presidente Sarkozy è giunto nei pressi dell'appartamento del killer Questo era un aggiornamento che vi dovevamo Ma che sicuramente poi lascerà gli approfondimenti nazionali ed internazionali Su questa notizia così importante E ripeto nel giorno in cui si sono celebrati i funerali delle piccole vittime Noi subito dopo la pubblicità andiamo in onda con Pronto Dottore Come sempre e come tutti i giorni Vi ricordo che c'è un numero verde a cui chiamare Per fare domande ai nostri ospiti 800-098-729 Oggi si parla di ematuria e proteinuria Con il dottor Rino Cuzzola Dell'unità di nefrologia dell'ospedale di Venere di Carbonara in Bari Chiamate o prenotatevi sin da ora per le domande Io vi ringrazio per averci seguito Ci vediamo domani sempre puntuali con Antenna Pomeriggio Grazie Eli e ancora buon pomeriggio Grazie a tutti